Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Questa sera al Teatro Traetta di Bitonto va in scena uno spettacolo un po' particolare Spettacolo sarebbe una parola troppo riduttiva, è un evento vero e proprio che ha protagonista Enrico Loverso Le metamorfosi di Ovidio Enrico, parlaci un po' di queste metamorfosi Ti ringrazio per questa presentazione E questo è uno spettacolo al cui sono particolarmente affezionato E' uno spettacolo che nasce in realtà qui a Bitonto dove ci troviamo adesso E che abbiamo già portato in due teatri meravigliosi a Segesta e a Lecce al Teatro Romano E' uno spettacolo che parla del mito e parla in realtà dell'uomo Perché noi veniamo da quelle storie e ci siamo formati con quelle storie E quelle storie in realtà raccontano le pulsioni dell'uomo e i bisogni emotivi dell'uomo Questo spettacolo è di Ovidio Ma non è di Ovidio E' di noi, di tutti noi Noi che lo facciamo E' il pubblico che lo ha già visto E' il pubblico che lo vedrà Lo spettacolo è metamorfosi E' uno spettacolo che non conosce la routine E' uno spettacolo in perenne evoluzione e cambiamento E non è uno spettacolo che abbia repliche E' uno spettacolo che ogni volta ha una prima Ha una primavera, sudata, messa in scena E ogni volta è provata fino ai dieci minuti prima di andare in scena Perché ogni volta questo spettacolo si modifica Col contributo di persone nuove, di energie nuove Che arrivano ad arricchire sulle tavole del nuovo palcoscenico Quella che è una storia millenaria Che Ovidio ha raccontato Prendendola spesso a prestito ancora dai miti greci E questo è un'altra delle cose Dei valori aggiunti di questo spettacolo Il perpetuare questa tradizione Dei nostri bisogni Dell'animo umano che ha bisogno di raccontarsi E di darsi delle metafore E di trovare delle metafore per raccontare delle pulsioni che noi abbiamo Senti, è un evento particolare Tu hai fatto Farinelli Hai fatto Raffaello E' una sfida diversa questa? E ti do un anteprima Ho fatto anche Michelangelo E uscirà fra poco E questa è una sfida grandiosa Michelangelesca anche questa Questo voler trovare sempre dei limiti diversi Dei limiti più lontani Alzare sempre l'asticella come si dice oggi Per conoscersi meglio Ti lasciamo andare perché so che sei a ridosso dello sipario Grazie tante per la tua disponibilità E in bocca al lupo per stasera Grazie a voi per la vostra disponibilità Perché siete arrivati Quando avevamo l'appuntamento Perché ci vedessimo E però avete assistito dal vero A come questo spettacolo prende forma ogni volta in modo diverso Avete assistito alle prove di questo spettacolo Fino a adesso questo sipario è chiuso Non lo vedete ma lo vedo io Dietro al sipario c'è già il pubblico in sala E il pubblico sta per vedere qualcosa che neanche io so ancora come sarà Grazie Radio Doppio Zero Radio Doppio Zero Suona ciò che ami Più suona e più la ami